Bakugo tornato sul campo di battaglia grazie al suo stesso quirk affronta qui direttamente All4One affermando che lui è lì per rimediare a ciò che non riesce a fare quel dannato nerd Izuku Midoriya che da canto suo sta nel frattempo cercando di tenere a bada Shigaraki è qui che c'eravamo fermati due settimane fa ed è qui che inizia il capitolo di oggi un capitolo che ci rivela il nome del secondo user un capitolo mozzafiato per Bakugo e per il risveglio del suo quirk ma anche un capitolo di doveroso recap degli altri campi di battaglia insomma siamo davanti al preludio dell'ultimo grande scontro del manga di My Hero Academia pronti quindi a tuffarci insieme in questo 406? Partiamo subito il capitolo di oggi ragazzi inizia dunque proprio con il recap dei vari campi di battaglia ed è un recap importantissimo da vedere soprattutto alla luce delle modifiche apportate nei capitoli precedenti grazie all'uscita in Giappone del volume 39 la settimana scorsa modifiche circa lo scontro a Montegunga qui Orikoshi ha infatti migliorato i disegni degli scontri che hanno coinvolto Toei e Toga ha spostato tavole e unito capitoli ma anche disegnato nuove splash page per farci capire meglio le azioni in atto ed ha aumentato a dismisura con sangue ovunque la tragicità degli eventi un fare tragico dunque che perme anche l'inizio di questo capitolo 406 con i vari campi di battaglia vediamo qui infatti Shoji e Koda riprendersi all'ospedale centrale dove i medici si stanno occupando dei feriti e dove la folla sta venendo pian piano dispersa vediamo anche Gangorca distrutto dallo scontro al parco acquatico dopo aver affrontato i Nomu lo sappiamo ma vediamo anche Agakure e Aoyama liberare quelli che erano gli ostaggi di Kunieda il tutto mentre per la prima volta vediamo anche l'unico campo di battaglia che ci rimane da vedere insomma e di cui non sappiamo nulla quello di Takoba in cui gli eroi stanno affrontando il temibile Gastly evasso dal tartaro che vi ricorderete c'era stato annunciato proprio insieme a Kunieda all'inizio di questa grande guerra finale tra l'altro qui ragazzi Gastly si presenta come una figura alta e con un ombrello oscuro insomma un qualcosa di veramente orrorifico e qui ragazzi ricorda tantissimo questo disegno le illustrazioni o per meglio dire l'illustrazione di copertina dei piccini di Gastly Crumb libro scritto dall'americano Edward Gurey non so se l'ho nominato bene comunque si tratta in particolare di un alphabet book dove 26 bambini che rappresentano ovviamente le lettere dell'alfabeto muoiono in varie circostanze come sbranati da orsi, dati a rogo, investiti dai treni insomma tutte cose belle e simpatiche per imparare l'alfabeto in America la situazione quindi non è decisamente ancora delle migliori nonostante la cattura di Skeptic e infatti Tsukauchi è ancora preoccupatissimo per lo scontro in atto tra i due Demon Lord ovviamente Kachan e Goku però nonostante ciò tutti credono in loro e anzi questa speranza che sta poi permeando gli ultimi capitoli passa ora anche nelle parole di Lady Nagant che torna e che ripensa a Rock Lock io vi giuro adoro e soprattutto alla fiducia che esso aveva in Izuku ed è qui dunque che con mia grande sorpresa lo ammetto scopriamo che anche Lady Nagant è viva e qui secondo me si potrebbe porre uno dei punti deboli che molti vedono in Meiro Academy ovvero in questa grande guerra è possibile che non sta schiattando nessun eroe in fondo Headshot l'avevamo dato per morto ed è vivo All Might è sopravvissuto Lady Nagant nonostante quel colpo supremo con lei che lo spara off screen tanto da non mostrare il sangue che parla è ancora viva insomma ma un eroe in questa guerra vuole morire o no? ora ovviamente molti vedono questo elemento come un punto debole di Meiro Academy io vi posso dire solo quella che è la mia opinione ovvero ma chi se ne frega Meiro Academy in fondo non è mai stato questo manga estremamente tragico e soprattutto cosa che mi preme di più è quella che poi è la mia interpretazione personale il mio gusto personale io preferisco quelle opere che in un qualche modo elogiano la vita quindi chi se ne frega se gli eroi non stanno morendo spero a questo punto che pure Togia e Togia si salvino e amen no vabbè a parte per loro due che rappresentano un caso specifico raga non so voi ma a me questo fatto che non stiano morendo eroi a questo punto veramente interessa il meno possibile ciò che mi importa è l'azione l'azione che vediamo infatti da adesso in poi voi ovviamente ditemi la vostra nei commenti ma continuiamo con la narrazione nel frattempo che vediamo la situazione diciamo risolversi dai sugli altri campi di battaglia ecco dunque tornare su quello principale dove All4One è stato scaraventato da Bakugo sul tetto di un palazzo e dove abbiamo delle importanti rivelazioni su quello che è il quirk di Bakugo Edshot parlando con All Might ci rivela infatti che la velocità che il ragazzo ha raggiunto prima tra virgolette di morire aveva lasciato di stucco persino All4One che vi ricorderete bene ha visto il secondo user del One4All mentre veniva colpito e dopo nel corso del video capiremo anche il perché di quella visione quella velocità però non era altro che l'inizio del risveglio del quirk di Bakugo e quindi se il ragazzo continuerà ad usarlo potrebbe davvero capire o potrebbe diventare la chiave che andrà a risolvere questa situazione in atto qui dunque All4One guarda il cielo si rialza guarda il cielo e dice ok adesso basta cioè mi sono stancato non è più il momento di perdere tempo finalmente se ne è accorto anche lui e il suo obiettivo qual è? il suo obiettivo ragazzi diventa molto semplicemente e anche direi finalmente quello di unirsi e di fondersi definitivamente con Shigaraki Tomura e qui vediamo infatti la macchina da presa passare proprio su Tomura che guarda sorpreso il ritorno di Kachan affermando che dai su alla fine basterà solo spezzarlo di nuovo e così sicuro non si rialzerà più al contempo ecco che però Deku attiva il suo lato da overthinker che penso sia quello che diciamo il suo aspetto del carattere che lo collega di più a me io e Deku overthinkiamo al massimo comunque qui Izuku dice che finora ha usato il danger sense per schivare e che ormai anche l'utilizzo del gear shift è al limite tanto che finora non ha nemmeno raga trovato ancora un modo no? per contrastare il mostro che ha davanti uno Shigaraki che può ridurlo in polvere che è in grado di rigenerarsi e che di fatto ha un corpo sovrumano guardando la situazione in atto Izuku si rende però conto che nonostante tutto raga non può antentennare e anche se gli rimane praticamente un'ultima marcia da usare in merito al gear shift e ora il momento di attivarla e qui parte una delle sequenze che io già mi immagino come sarà animata con la musica con il doppiaccio magari con non lo so con veramente useran sotto perché qui ragazzi che Deku che anzi nella mente di Deku e nella mente di Bakugo si pone lo stesso pensiero si pone ovvero una frase Sora Nimukoe plus ultra che ovviamente voi sapete bene essere il motto di Mairo Accademia per Antonomasia e qui vediamo Deku attivare il gear shift con il supporto del secondo user mentre Shigaraki si prepara all'attacco e mentre a pochi metri di distanza All4One si gira letteralmente braccato da Bakugo che combatte sorridendo All4One infatti continua in questo momento ad avanzare a grande velocità verso Shigaraki intenzionato a fondersi con lui il tutto mentre riflette sul potere del cane da caccia che lo sta inseguendo un quirk relativo alle esplosioni non è forte quanto Hell Flame o Dark Shadow cioè confermando che Tokoyami è più forte di Bakugo è parole di Afo di conseguenza potrà affrontare il ragazzo dopo la fusione e non è il caso di farsi riavvolgere nuovamente da una cacchetta simile però al contempo quel ragazzo gli fa paura perché mentre i due volano quindi in direzione di Deku e Shigaraki Bakugo ha il tempo anche lui di pensare e di riflettere un attimo su quello che è il suo quirk ma soprattutto sull'azione in realtà che esso sta avendo ora sul suo corpo e qui Kachan si rende conto che la chiave è il dolore a causa delle ferite del costume distrutto della situazione del stressante insomma a causa di tutto il complesso in atto il sudore dalle mani si sta distribuendo anche su tutto il corpo e quando esplode questo sudore crea dolori lancinanti che però generano esplosioni più forti il punto chiave ora quindi è capire dove sente più dolore per scatenare esplosioni ancora più forti e così fa effettivamente per avere la spinta necessaria per raggiungere in men che non si dica all for one Bakugo dunque vola veloce ora quanto afo colpendo più volte gli edifici circostanti e i detriti volanti ma continuando a sorridere e a ridere sorpreso da quanto veloce stia riuscendo ad andare e qui abbiamo un bellissimo parallelismo ragazzi con quanto accaduto prima della sua morte Bakugo in quell'occasione si era posto infatti una domanda ovvero posso ancora stare dietro a Izuku e qui si rende conto che in questo momento non solo gli sta dietro ma è una gara nella quale sente di poterlo addirittura superare sottolineando quindi nuovamente quel rapporto di amicizia e soprattutto di sana rivalità che intercorre tra i due personaggi e io veramente non so che dire se non che Bakugo si sta rivelando davvero il personaggio meglio scritto di tutto Mairo Accademia un personaggio dalla crescita incredibile e spero come vedete sono ancora messo un po' malino con la gole che raffreddore d'osso non si capisce niente però spero di poter approfondire in video il loro rapporto con un parallelismo a quello che intercorre tra Toghe e Ochako al più presto vi giuro lo faremo mentre Bakugo sorride come un pazzo scatenato sotto lo sguardo paralizzato di All4One che non sta accadendo nulla di ciò che sta accadendo praticamente ecco che però vediamo l'attivazione della trasmissione televisiva dello scontro anche ai dormitori fortificati della UA e qui i genitori di Bakugo si convincono a guardare le azioni del loro figlio con le lacrime agli occhi e le mani sul petto e qui la mamma di Bakugo afferma che sebbene non si veda chiaramente è certa che suo figlio stia combattendo anche ora con il sorriso sul volto e infatti così sta accadendo fatta questa apparentesi veramente tanto bella a livello sentimentale per quello che è di nuovo il personaggio di Bakugo passiamo adesso ragazzi ad un monologo interno di All4One un All4One sconcertato che veramente non sta accadendo nulla di ciò che sta accadendo qua un monologo che però ci riporta al passato di nuovo torniamo raga su quello scenario di morte e distruzione già visto con il secondo user del One4All qui Afo ammette che quel ragazzo che lo sta inseguendo infatti lo turba e lo infastidisce persino più di All Might ma perché si tratta di un ragazzo a caso non è nemmeno un user del One4All eppure lo turba però è qui che All4One capisce il motivo di tale sgomento Bakugo assomiglia al secondo user del One4All e non solo di aspetto ovviamente perché qua sarebbe stata veramente la scoperta dell'acqua calda qui Afo ricorda infatti quelle che sono state le ultime parole del secondo user ovvero se stai cercando Yoichi signor Demon Lord se ne è già andato e lo hai ucciso tu per questo il For One è arrabbiato forse diciamolo quant'è il capitolo in questo punto è davvero vago vaghissimo ma la risposta alla fine del collegamento tra Bakugo e il secondo user del One4All sta nel parallelismo che intercorre tra Yoichi e il secondo user è Deku e Bakugo se il secondo user non fosse intervenuto dando la mano a Yoichi nulla di tutto ciò sarebbe accaduto e qui siamo nella stessa situazione Bakugo è sempre stato accanto a Deku i due più o meno si sono sempre tesi la mano e nei capitoli quella mano è stata afferrata ed è bellissimo come questa stretta di mano se ci pensate esista e si sia posta in Meero Academia fin dagli albori una stretta di mano che indica speranza fiducia amicizia e futuro qui Bakugo riesce dunque ad approfittare di questo minimo momento di distrazione di pensiero di rabbia di All4One per scatenare un'altra incredibile esplosione che lo fa scaraventare praticamente su un palazzo mentre Bakugo subendo il contracolpo anche lui inizia a rimbalzare nell'ambiente circostante ed è qui che di fatto avviene la magia All4One urla con tutto se stesso è tutta colpa tua kudo riferendosi a Bakugo e qui dunque abbiamo la rivelazione del nome finalmente del secondo user del One for All per carità non che fosse necessario anche perché ora che ci penso non sappiamo ancora quello del terzo probabilmente però cavolo lo stavamo aspettando è un bel elemento ci sta e qui Bakugo giustamente chiede all'avversario se quelli altro non siano che i primi segni di demenza senile dato che quello che è davanti parole di Bakugo e tutto ciò non è altro che Kachan Bakugo e il capitolo folle di questa settimana raga ci apre così davvero allo scontro finale e all'ascesa di tutti i personaggi verso quello che è il loro vero essere con cioè raga con Bakugo che si chiama Kachan rendetevi conto e io sinceramente adesso mi aspetto tanta roba anche per quella che è in un qualche modo la crescita o per quella che sarà la crescita di Deku insomma li abbiamo visti tutti Oricoshi secondo me si sta tenendo il loro scontro veramente per quello che sarà il gran gran finale ora ditemi come sempre la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo qui sotto insomma lo sapete vi leggo tutti ci vediamo qua